Buongiorno a tutti. Oggi è il 16 maggio 2022, una giornata che è dedicata al curriculum trasversale di educazione civica. L'appuntamento di oggi sarebbe stato per il curriculum verticale. Vi proponiamo in sostituzione una serie di materiali per il curriculum trasversale di educazione civica che sono stati utilizzati per un corso nell'ambito 6 Lombardia, quindi 51 istituti Brescia, Interland e Valtrombia. Ora io sono Marzia Vacchelli e sono appunto risorsa per l'ambito 6. Condividerò con chi lo desidera i materiali che ora vedrete, partendo dalla mia presentazione in Google fino a tutti i materiali contenuti nella cartella. La linkerò anche nella didascalia della registrazione che troverete nel canale Media Education, come sempre. Per ricevere notifiche tutte le volte che io pubblico una registrazione, basta premere iscriviti. Una cosa è gratuita e riceverete una registrazione qualora appunto mi sia autorizzata, come oggi, la registrazione del laboratorio. Come sapete esiste anche un blog sito marziavacchelli.com, qui potete trovare informazioni relative agli ambiti di cui mi occupo, quindi Media Education, internazionalizzazione del curriculum e didattica innovativa. Come prima cosa, quando condividerò lo schermo, vedremo appunto questo mio blog e vedremo anche la modalità per iscriversi. Quindi buon ascolto. Condivido quindi la pagina del mio blog, che potete trovare anche dalla home page dell'Icio Gambara. Ecco, questa è la home page dell'Icio Gambara, qui trovate il box Erasmus+. Sempre nel menu di destra trovate il box Formazione ambito 6 e cliccando su Formazione interna cura del docenti ambito 6 trovate tutte le registrazioni come sul canale YouTube più altre informazioni che ha caricato la webmaster professoressa Patrizia Greggio. Mentre, tornando all'home page, se voi al centro cliccate su questo cloud, trovate l'accesso al mio blog, appunto marziavacchelli.com. Queste sono le ultime informazioni che ho postato oggi, ho ad esempio informato rispetto al progetto Erasmus Teachers Academy. Subito dopo trovate l'invito all'evento multiplicatore di un progetto piano nazionale scuola digitale che abbiamo realizzato in collaborazione con Abba Bellini di Brescia e Attilio Bertolucci di Parma. Quindi, 20 maggio dalle 8 alle 13 in forma duale, se siete interessati, le iscrizioni sono ancora aperte, scrivetemi pure mediaeducation.liceogambara.edu.it Oppure potete anche scrivere in commento a questo articolo. C'è un invito per il 18-5, nuove idee di museo, i musei scolastici per una heritage community. È un evento a Torino. Subito dopo, tutte le informazioni relative alle iscrizioni agli Accessibility Days, che si svolgono anche quest'anno in via streaming, oltre che in presenza. E quindi avete la possibilità, consultando l'agenda completa delle sessioni dal 20 al 21 maggio, di iscrivervi, sia per la presenza che per lo streaming. Essendo organizzata in particolare dalla sede Istituto Percechi, trovate anche una serie di informazioni, anche logistiche, che possono essere utili. Dopo questa notizia, trovate un'indicazione di un ulteriore seminario, innovare il sistema di gestione dei servizi educativi, una ricercazione per lo sviluppo di un modello di supervisione pedagogica nella cooperativa COINEDI, giovedì 19. Quindi, dalle 9.30 alle 13 sarà illustrato da parte di COINEDI, tutto il percorso di sperimentazione e di supervisione pedagogica. Le lingue dell'affinità e dell'appartenenza è invece l'oggetto di tre incontri, due si sono già svolti. Il terzo sarà il 18 maggio, dedicato all'insegnamento dell'italiano come lingua 2, come maieutica di cittadinanza e di educazione nei confronti di soggetti vulnerabili. Quindi, diritti nei confronti di soggetti vulnerabili. Si tratta di un terreno, dice la descrizione dell'evento, su cui lavorare con maggiore consapevolezza e impegno, per trascendere la cornice della lingua 2 come lingua del lavoro e di sussistenza burocratica. Trovate poi una interessante registrazione e descrizione dell'evento e una presentazione del relatore. A seguire, una guida metodologica sulle attività di partecipazione per le strutture di accoglienza per minori non accompagnati in Italia, a cura dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, attiva da 70 anni. E eTwinning, European School Education Platform, ecco queste sono le indicazioni per la nuova piattaforma europea che si è aperta qualche settimana fa. Ecco, qui trovate il login e il tutorial. Dal 16, cioè da oggi al 22 maggio, vari canali, tra cui Rai Scuola, propongono degli approfondimenti di tipo artistico. A partire dai girasoli di Van Gogh, a Gauguin e Frida Kahlo. Venezia, infinita vanguardia, la catacombe di Napoli. Ecco, qui trovate le indicazioni e le modalità di fruizione di questi laboratori. A seguire, le disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare, nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare, la cosiddetta legge salvamare, che contiene, è interessante per l'argomento di oggi, delle misure educative che entreranno presto nelle linee guida dell'educazione civica. Per ora, una grande notizia questa, consideriamo che il nostro Paese dispone finalmente di uno strumento efficace, concreto, richiesto peraltro dall'Unione Europea, che consentirà ai pescatori di portare a terra la plastica recuperata con le reti, invece di scaricarla in mare, azione che prima costituiva il reatto di trasporto illecito di rifiuti. La legge, inoltre, prevede l'installazione di sistemi di raccolta alla foce dei fiumi per intercettare la plastica prima che arrivi in mare e si occupa anche di dissalatori, educazione, campagne di pulizia, posidonia oceanica e molto altro. A seguire, Fondazione CESVI presenta Crescere al Sicuro, quindi quinta edizione dell'Indice Regionale sul maltrattamento all'infanzia in Italia. È un allarme quello che proviene da questo articolo rispetto al maltrattamento all'infanzia, che rimane un problema particolarmente grave, che si è acuito ultimamente e che produce conseguenze drammatiche sulla salute mentale, naturalmente, dei fanciulli maltrattati a breve e a lungo termine. Quindi, voi sapete che anche l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile all'obiettivo 16.2 raccomanda di porre fine all'abuso, allo sfruttamento, al traffico di bambini e bambine, a tutte le forme di violenza e tortura nei loro confronti, quindi vi suggerisco senz'altro la lettura di questo indice. Una sintesi dei sei giorni che invece si sono conclusi di Feste Erasmus a Firenze, una cosa di lieto, e anche una informazione rispetto ad un importante festival che si è concluso ieri per promuovere l'inclusione sociale e lavorativa delle persone autistiche. Si è svolto a Milano e qui trovate comunque i riferimenti, le attività possibili e comunque a chi rivolgervi. Ecco, mi fermo qui, anche se come avrete intuito il mio blog vuole proprio a livello trasversale occuparsi di educazione civica che è un po' l'oggetto di oggi. Cosa fare per iscriversi al blog? Basta andare al termine della home page e scrivere qui dove trovate inserisci il tuo indirizzo email, il vostro indirizzo di posta elettronica. In questo modo, cliccando poi iscriviti, riceverete notifiche tutte le volte che pubblicherò degli articoli riguardanti appunto la didattica innovativa, la media education e l'internazionalizzazione del curriculum. Venendo invece alla nostra presentazione, ovvero alla metodologia per la costruzione delle basi di un curriculum trasversale di educazione civica, vi consiglio la lettura proprio perché il Digicomp Edu fornisce uno strumento a livello trasversale per le tre aree che conosciamo, quindi Costituzione, Sviluppo Sostenibile e naturalmente Educazione Digitale in quanto sviluppare pratiche di insegnamento e apprendimento secondo il quadro di riferimento delle competenze digitali dell'educatore in Europa è un concreto aiuto. Quindi le tecnologie sono presenti ormai in diverse fasi del processo di insegnamento di apprendimento ed è importante che ogni educatore ne possegga la competenza essenziale. Quindi questo quadro di riferimento intende favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti in termini di alfabetizzazione dell'informazione e ai media, di comunicazione e collaborazione digitale, di creazione di contenuti digitali, di uso responsabile del digitale e naturalmente in termini di problem solving. Quindi è interessante poi discutere a livello di dipartimento, a livello di collegio delle eventuali unità di apprendimento trasversali di educazione civica che sperimentino proprio le indicazioni di questo DigiComp Edu. Propongo poi due modelli di integrazione della tecnologia nella didattica il modello SAMR e il modello TPAC. Probabilmente ne avrete già sentito parlare il SAMR model di Ruben Puente Dura si basa su quattro azioni quindi la sostituzione quando la tecnologia agisce come un diretto sostituto quindi non ha un'azione di cambiamento funzionale. La A sta per Aumentation quindi la tecnologia agisce come una diretta sostituta con un miglioramento a livello funzionale la M sta per Modification quindi la tecnologia permette un redesign quindi una ricostruzione possiamo dire così anche il professor Piercesare Rivoltella utilizza la metafora del designer per parlare del docente del task significativo cioè del compito che poi va a produrre apprendimento significativo. La R sta per Redefinition quindi la tecnologia permette la creazione di nuovi compiti che erano poco tempo fa inconcepibili quindi la capacità di reagire a situazioni inaspettate anche grazie alla tecnologia. Ecco, questo è quello che già conoscete insomma la tassonomia di Bloom rivista proprio alla luce di quanto ci siamo detti quindi i diversi livelli ricordare, capire, applicare, analizzare, valutare e creare sono applicate appunto ad attività con l'utilizzo della tecnologia quindi un ricordare potrebbe essere favorito da una scelta multipla o da un abbinamento un capire da un riassunto da una schematizzazione applicare da una formula ad un problema analizzare da una classificazione una scomposizione in parte valutare il proprio lavoro quello di altri e creare, trovare soluzioni nuove attività collaborative e costruttiviste la domanda chiaramente è ma tutto questo noi l'abbiamo già fatto che bisogno c'è di avvalersi della tecnologia ecco, questa ruota pedagogica vi dà un'idea di di quanto gli applicativi presenti e in continua implementazione presenti nel cloud possono aiutarci ecco, questa ruota pedagogica che qui ovviamente non è visibile la trovate semplicemente digitando ruota pedagogica in qualsiasi motore di ricerca include concezioni educative caratteri, attributi dei laureati e capacità quindi è un lavoro un'aggregazione di diverse app per la creazione 31 app per il ricordare 34 app per il capire 32 per l'applicazione 32 per l'analisi 29 e per la valutazione 30 per quanto riguarda il modello TPAC che invece è stato realizzato all'interno del Politecnico di Milano io l'ho conosciuto frequentando il master DOL quindi diploma online tecnologie per la didattica propone un interessante connubio un interessante mix tra conoscenza pedagogica conoscenza del contenuto e conoscenza tecnologica quindi arrivare ad una conoscenza del contenuto tecnologica e pedagogica questo è a mio parere alla base del curriculum dell'educazione civica ovvero se vogliamo agire trasversalmente dobbiamo in equip in consiglio di classe in gruppo di lavoro avere dei ruoli ben precisi cioè avere all'interno del gruppo di lavoro chi ha contezza dei contenuti chi invece della conoscenza pedagogica chi della conoscenza tecnologica e utilizzare questa questa molteplicità di competenze per arrivare ad una ad un approccio didattico efficace e significativo l'apprendimento che più si presta all'applicazione di questi due modelli è a mio avviso il project based learning o problem based learning che cos'è? è un approccio che pone l'accento sull'apprendimento da esperienze complesse quindi orientate verso il raggiungimento di uno scopo o di un obiettivo specifico al contrario invece di una didattica trasmissiva o comunque di un approccio accademico che promuove la memorizzazione meccanica di molteplici nozioni alienate dai loro usi concreti nel mondo reale chiaramente l'obiettivo che si pone il project based learning è quello di fornire agli studenti gli strumenti mentali necessari per far fronte alla complessa e mutevole natura dell'economia basata sull'informazione che dovremmo prepararsi ad affrontare ecco ciò che mi viene in mente in questo momento è tutto l'apporto di avanguardie educative alle idee in particolare visible learning che viene ispirato dalla collaborazione con project zero ecco rendere visibile l'apprendimento riconoscere le routine di pensiero ecco questo deve essere a mio parere alla base di un approccio project based e chiaramente si tratta di obiettivi a lungo termine sarebbe interessante partire già dai primi anni della scuola primaria con questo approccio per poter arrivare poi a conclusione le classi che si avvicinano all'esame di stato ad aver interiorizzato anche un apprendimento cooperativo quindi aver interiorizzato quelle soft skills quelle oggi si dice competenze non cognitive che poi sono un veicolo prioritario per privilegiato per l'immissione nel mondo del lavoro o naturalmente anche negli studi è un allontanarsi chiaramente dal modello relazionale uno a uno quindi professore studente e come si diceva un ponte verso un autentico lavoro in cooperative learning le tappe fondamentali del project based learning e quindi del curriculum trasversale di educazione civica sono quattro creare squadre quindi creare squadre composte da tre o più studenti che lavorino ad un progetto per un periodo che va dalle tre alle otto settimane io in questo momento ad esempio mi trovo a Rodez con un gruppo costituito da tre studentesse una studentessa cinese una studentessa di origine africana una studentessa italiana che conoscono molto bene la lingua inglese la lingua francese la lingua spagnola e sono qui in una scuola come la nostra accreditata Erasmus più a costruire sapere insieme a dei compagni che hanno conosciuto oggi noi siamo arrivati ieri oggi sono entrate nelle classi e hanno osservato da domani inizieranno a far parte di progetti e venerdì ci sarà addirittura anche il collegamento con un nostro progetto italiano che prevederà la diretta sia appunto dalla Francia che dalla Germania quindi creare squadre porre una serie di domande che stabiliscano ciò che lo studente ha bisogno di apprendere e stabilire la struttura del progetto inserendo attività e nuove informazioni che potranno essere apprese durante il lavoro esattamente quello che faremo noi in questa settimana di mobilità arodese naturalmente vanno fissate le tappe del progetto che comprendano la creazione di un piano di progetti una presentazione finale e noi abbiamo in Erasmus un final document un diario di bordo una presentazione multimediale in digital storytelling e la consapevolezza di far fronte ad un pubblico composto da esperti da genitori e conoscenti quindi un confronto con il territorio ha diversi diverse componenti del territorio è importantissimo dare valutazioni puntuali o feedback ai singoli progetti alle capacità di comunicazione scritta orale al lavoro di squadra al pensiero critico e altre importanti competenze che emergono durante il processo formativo tanto per fare un esempio le studentesse che si trovano qui con me arodese compileranno un diario di bordo effettueranno un'analisi SWOT del loro lavoro in mobilità a breve termine quindi SWOT sta per strength punti di forza weaknesses punti di debolezza o opportunities e ti sta per threats quindi minacce come funziona il project based learning gli ambiti di apprendimento sono otto contenuti standard collaborazione pensiero critico comunicazione verbale comunicazione scritta preparazione professionale etica preparazione da cittadino alfabetizzazione tecnica ecco gli istruttori gli educatori iniziano il loro percorso proponendo agli studenti una situazione concreta o un progetto realistico che suscita il loro interesse faccio un altro esempio un altro progetto che abbiamo attivo con la Spagna esattamente con Cadice riguarda l'archeologia marina quindi questo che abbiamo in atto con Rodese riguarda la mediazione la mediazione per l'accoglienza mentre quello su cui lavoreremo l'anno prossimo con Cadice riguarda l'archeologia marina quindi una situazione concreta culturale un progetto realistico e un coinvolgimento di diverse scuole europee per il raggiungimento di un comune obiettivo che è quello dell'approfondimento culturale che è quello della ricerca quella della sfida su un argomento che è sicuramente affascinante e che può portare anche a un orientamento per il futuro biologia marina ad esempio svolta all'estero grazie all'uso del project based learning lo studente potrà imparare a collaborare lavorando in gruppo sviluppare il proprio spirito critico affrontando problemi complessi imparare a comunicare verbalmente facendo presentazioni imparare a comunicare per iscritto scrivendo naturalmente prendere confidenza con la tecnologia sviluppare la responsabilità civica quindi affrontando come faremo il giorno 20 nella giornata di restituzione remix presso l'istituto Abba Ballini progetto sviluppato insieme a il liceo Attilio Bertolucci di Parma scuola capofila liceo Gambara ecco affronteremo problemi locali ragazzi hanno lavorato in gruppo su problemi locali come a Brescia l'inceneritore oppure come la salute mentale l'intrattenimento culturale degli studenti nel pomeriggio eccetera un altro un altro skill sarà sicuramente appunto quello di apprendere una professione attraverso un tirocinio e di apprendere nuove nozioni attraverso ricerche e facendo tutto ciò che in serendipity può essere scoperto navigando negli step precedenti perché è importante monitorare e dare un feedback continuo la valutazione parte naturalmente dall'analisi dei risultati quindi valutazione parte da quei progetti che hanno costruito dei prodotti che hanno sviluppato delle prestazioni e che si propongono appunto sia a livello orientativo che a livello di crescita personale come un valido feedback per gli studenti quindi quali saranno gli strumenti che possiamo utilizzare di cui possiamo avvalerci naturalmente rubriche valutative punteggi guida l'importante è che i criteri siano illustrati agli studenti all'inizio del percorso quindi quando presentiamo gli obiettivi le modalità i tempi i compiti richiesti è importante anche condividere con gli studenti i criteri di monitoraggio di valutazione e di feedback i voti indicati dai report sono divisi anche questa volta tra contenuti spirito critico comunicazione scritta comunicazione orale alfabetizzazione tecnologica e ogni altro risultato come si diceva prima ottenuto grazie all'apprendimento durante il corso quindi possono esserci delle situazioni inaspettate inattese e si misura quindi la capacità di reazione e la capacità di problem solving i feedback continui sono fondamentali per aiutare gli studenti a sapersi autoregolare e anche ad autovalutarsi quindi alla fine di ogni progetto di in questo caso di educazione civica trasversale quindi cui ha lavorato l'intero consiglio di classe gli studenti valutano i membri del proprio team compilando moduli online anonimi per appunto la collaborazione tra pari i punteggi sono inseriti in un database a cui possono accedere gli studenti tramite password per vederli gli studenti possono poi pubblicare tali risultati come prova nei loro archivi digitali sto parlando nel nostro caso liceo Gambara ad esempio di Classroom o il registro elettronico se riguarda il docente gli insegnanti e visitatori della community possono consultare i punteggi e confrontarli con schede online di valutazione simile ecco quindi si parla di punteggi anonimi di rubriche valutative a disposizione come strumenti e chiaramente anche un'offerta di situazioni analoghe simili quindi una replicabilità di questa pratica in che modo la tecnologia supporta il project based learning la tecnologia è un supporto fondamentale dotati ognuno del proprio computer e del proprio accesso ad internet naturalmente i studenti possono fare ricerca e qui consiglio naturalmente una web quest quindi soprattutto nel primo grado o comunque nei primi anni del secondo grado una ricerca guidata sulla base di indicazioni precise date dall'insegnante vai al sito vai alla pagina cerca questa informazione confrontala con la informazione data dal sito eccetera comunicare con esperti e professori ma facendo bene attenzione che queste lezioni non siano di un livello eccessivamente alto che siano sfidanti ma non troppo quindi che la comunicazione sia sempre efficace non accademica quindi non trasmissiva anche in questo caso e che ci siano più spesso possibile occasioni di confronto e di interazione io come formatrice per i docenti vedo che anche per i docenti è esattamente così quindi è chiaro che si ascolta volentieri quando si viene interpellati valorizzati e monitorati possono naturalmente scrivere articoli report possono anche quindi anche in questo caso sviluppare delle abilità che possono essere utili in una fase di orientamento alla scrittura a professioni come il giornalismo creare presentazioni e grafica quindi andiamo oltre il powerpoint andiamo a strumenti come canva come ad hoc spark come beautiful eye alla creazione di video digitali con strumenti come lightworks podcast con spreaker sviluppare il loro portafoglio digitale quindi dando dimostrazione della loro padronanza acquisita durante il percorso scolastico ecco un altro quadro di riferimento oltre il digicomp edu che propongo per il curriculum trasversale educazione civica è lifecomp cioè il quadro di riferimento europeo per le competenze chiave personali sociali e dell'apprendere ad apprendere ecco io vi ho naturalmente inserito anche il link alle raccomandazioni del 2018 da parte del consiglio dell'unione europea queste competenze naturalmente sono fondamentali per raggiungere una realizzazione per fare se stessi e anche un'efficace relazione con gli altri positiva relazione con gli altri e a imparare come imparare e quindi il long life learning ovviamente perché l'imparare ad imparare significa poi imparare per sempre quindi queste competenze chiavi sono necessarie per la nostra inclusione sociale per la nostra partecipazione civica nella società e naturalmente anche per un dialogo internazionale favorito decisamente da progetti come quelli di cui vi parlavo precedentemente da Erasmus più o anche dalla piattaforma eTwinning Life Comp è un quadro di riferimento che stabilisce un accordo condiviso appunto come si diceva sulle competenze personali sociali e dell'apprendere ad apprendere è quindi un quadro di riferimento concettuale ma può essere usato come base per lo sviluppo di syllabus di curricula e di naturalmente attività di apprendimento il quadro di riferimento vuole aiutare le persone quindi non solo educatori o studenti a rilasciare proprio il proprio potenziale dinamico a regolare ad esempio le loro emozioni i loro pensieri i loro comportamenti lo scopo è quello di costruire una vita significativa di poter affrontare la complessità di essere comunque individui responsabili e riflessivi per tutta la vita il life comp descrive nove competenze che possono essere apprese a ciascuno sia in un tipo di education di qualcosa di più ampio della nostra istruzione formale non formale e informale queste sono le nove competenze allora stiamo parlando di self regulation quindi autocontrollo di flessibilità di benessere di empatia di comunicazione collaborazione spirito critico quindi apertura mentale e gestione dell'apprendimento qui poi ci sono nella slide che sto inquadrando delle declinazioni di queste competenze ad esempio per quanto riguarda la comunicazione l'uso di strategie rilevanti di codici specifici di dominio e di strumenti specifici che naturalmente dipendono dal contesto e dal contenuto per quanto riguarda l'empatia la comprensione delle emozioni delle esperienze dei valori di altre persone e la capacità di rispondere in modo appropriato alla situazione oppure il pensiero critico quindi la valutazione di informazioni ed argomenti a supporto di nostre riflessioni conclusioni ragionate per appunto sviluppare delle soluzioni innovative fondate ecco qui ulteriormente vengono così visualizzate queste competenze qui trovate il link per il download ripeto il link a questa presentazione troverete nella didascalia alla registrazione del video ecco all'interno del nostro progetto Erasmus è l'obiettivo 3 obiettivo 8 obiettivo 9 obiettivo 10 ecco giusto per darvi un'idea io qui ho linkato nella presentazione tutto ciò che riguarda il progetto Erasmus consorzio all'interno di 8 scuole quindi liceo Gambara istituto Capofila liceo Leonardo liceo De Andrè istituto Abba Vallini istituto Beretta IC di Calcinato IC di Castrezzato IC di Borgo Satollo in questo momento a Rodes mi trovo proprio con una collega di Borgo Satollo la professoressa Paola Bellandi che si occupa di inclusione anche al CTS ecco questa è appunto una carrellata una serie di sollecitazioni all'interno della cartella che sempre condividerò a descrizione di questa registrazione trovate anche dei format di progetto delle UDA trovate all'interno della cartella risorse sotto cartella risorse anche un'interessante presentazione dell'Università di Pisa in particolare del Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace che vi propongo proprio perché in questi giorni si sta parlando di piano scuola estate e il ministro cita proprio l'educazione alla pace tra le attività che possiamo proporre agli studenti ecco quindi io molto volentieri condivido le slide che mi sono state consegnate dopo un interessantissimo webinar di qualche mese fa si chiamava noi facciamo la nostra parte tu prendendo spunto da una leggenda che parla di questo uccellino che per spegnere un incendio porta una goccia continua a fare questi trasporti come gli elicotteri durante gli incendi e risponde agli altri animali che chiedono cosa stia facendo dicendo io faccio la mia parte ecco vi consiglio di consultare questo centro il CISP sia per quanto riguarda l'educazione alla pace ma anche per una didattica non violenta la gestione delle emozioni e l'apprendimento in una dimensione interiore che sono comunque due goal di agenda 2030 quindi istruzione di qualità parità di genere trasformazione del conflitto la comunicazione non violenta è veicolata da laboratori maieutico esperienziali quindi si lavora ad esempio sul triangolo del conflitto comportamento attitudini e contraddizione sul triangolo della non violenza empatia creatività dialogo e non violenza sulle quattro componenti della comunicazione non violenta quindi osservazioni sentimenti bisogni richieste su un circolare laboratorio maieutico quindi che riprende un pochino anche il setting del circle time quindi il cerchio sospensione del giudizio assolutamente non deve essere mai un approccio giudicante ascolto attivo rispetto di sé e degli altri debriefing quindi riflessione metacognitiva sul percorso e poi il trasferimento di peer education quindi la replicabilità di quanto si è appreso nel percorso all'interno di questo circle time viene poi citato il paradigma di lena parkness dall'allarme all'azione che prevede delle fasi intermedie la condivisione la risoluzione il cambiamento quindi azione ricarica interconnessione dialogo allarme quindi dall'allarme è opportuno questo lo si dice anche all'interno del documento programmatico della policy procedere ad una condivisione ad un dialogo ad una creazione di una rete ad una ricarica nel senso di risorse condivise fino ad arrivare ad un'azione efficace e autentica i percorsi partono appunto per questo consigliavo a livello trasversale dalla quarta e quinta elementare prima media quindi percorsi contro gli stereotipi pregiudizi le discriminazioni un approfondimento su cosa significa il punto di vista e su una sorta di alfabetizzazione delle emozioni ecco questo lo conoscete il classico disegno dei nove punti che vi suggerisce di trovare una soluzione fuori dagli schemi quindi utilizzare sicuramente anche il gioco come pedagogia e lavorare molto come si diceva sulle emozioni per poterle scoprire e poterle gestire per i più piccini c'è questo laboratorio il mangiarabbia per invece la seconda e terza media per le spalle superiori ci sono anche qui laboratori dedicati all'approfondimento su cosa possano essere gli impatti a livello sociale di stereotipi pregiudizi e discriminazioni approfondimenti sui punti di vista e razzismi antirazzismi quindi come si è fatto per i triangoli precedenti anche qui con l'iceberg della discriminazione ci troviamo di fronte ad una triangolatura cornice mentale stereotipo e pregiudizio che è la punta dell'iceberg naturalmente è interessantissimo anche questo laboratorio su razzismi e antirazzismi che parte dall'analisi di diverse figure profetiche diciamo che hanno attraversato la nostra storia fino ad arrivare a episodi più più recenti e più vicini alla realtà dei ragazzi il manifesto degli scienziati antirazzisti viene approfondito vi ricordo Pisa 2008 naturalmente mi è capitato di leggere in laboratori precedenti di far leggere appunto ai partecipanti ognuno un articolo e da lì poi sviluppare delle azioni di pratiche nelle classi lo suggerisco è un importante step nella crescita verso una cittadinanza consapevole e al termine di questo percorso suggerisce il CISP di utilizzare questo semplice schema di cosa non ho bisogno di cosa avrei bisogno in piccola parte di cosa avrei bisogno in una parte cospicua e di cosa invece avrei bisogno in quantità ecco con questo si conclude la presentazione del CISP naturalmente ci sono molte altre risorse ad esempio il Green Comp essere a scuola una guida contro l'adescamento online spazi educativi approfondimento didattica e identità digitale sempre analizzando la cartella curriculum trasversale trovate nella sottocartella la formazione delle ripeto delle unità didattiche eccole qua UDA che ho così ricavato un po' da una navigazione e le trovate su particolare su magari il primo grado ma con utilizzo anche nella primaria e nella secondaria di secondo grado ad esempio questo educazione ambientale classi seconde secondaria di secondo grado ha come denominazione la nostra ricetta per salvare l'ambiente e il compito è quello di una realizzazione di un menu sostenibile realizzazione quindi concreta di un elaborato cartaceo questa volta contenente le varie ricette per un menu sostenibile quindi quali sono le competenze chiave comunicazione nella madrelingua nelle lingue straniere competenza in base di base in tecnologia quindi competenza digitale imparare ad imparare competenze sociali civiche spirito iniziativa consapevolezza ed espressione culturale abbiamo cinque fasi quindi una prima fase di lettura analisi dei testi relativi all'agricoltura sostenibile al riciclaggio dei materiali a consumi a chilometro zero eccetera una fase due di confronto di rielaborazione individuale di gruppo sulle informazioni raccolte quindi vedete che la fase due è sempre una fase di dialogo e di cooperazione la fase tre l'inizio di questa realizzazione del prodotto intermedio e seguita dal prodotto finale la fase quattro è la presentazione del prodotto agli utenti e la fase finale la fase cinque è quella di autovalutazione le discipline convolte in questo caso sono italiano una lingua due scienze e tecnologia per un totale di 40 ore quindi 10 ore per classe qui sono indicati anche le fasi di applicazione le attività la metodologia gli esiti i tempi e le evidenze per la comunicazione e un quadro riassuntivo delle competenze sviluppate come si diceva poco fa rubrica valutativa che viene suggerita è naturalmente relativa allo spirito di iniziativa di intraprendenza che può essere iniziale di base intermedio avanzata competenze sociali civiche e questo è un diagramma che suggeriscono anche dall'agenzia italiana di Erasmus in dire il diagramma di Gantt quindi serve all'interno di un progetto per un cronoprogramma un'azione anche di gestione del tempo di management del tempo e di ciò che accade a livello appunto trasversale quindi vediamo italiano geografia scienze tecnologia lingue stradiste arte è molto importante anche questo ve lo consiglio proprio se intendete lavorare in modo trasversale facciamo un altro esempio di UDA di unità di apprendimento un mondo di libri questa volta parliamo di lettura e creatività quindi parliamo di scuola primaria quindi la creazione di lavoretti di testi creativi grafico pittorici quindi competenze chiave saranno la competenza alfabetica funzionale personale sociale capacità di imparare ad imparare come si diceva e in materia di consapevolezza espressione culturale gli utenti per questo UDA sono stati gli utenti della scuola primaria Pascoli e Costa le fasi di applicazione sono state cinque quindi servizio di prestito biblioteca in classe biblioteca digitale tesseramento degli alunni per accedere alla biblioteca digitale la seconda fase animazione alla lettura la terza incontro con l'autore in MIT la quarta creazione di un ebook su questo vi suggerisco sia i pub editor che book creator come applicativi 2.0 gratuiti ultima fase pubblicazione nel sito della biblioteca digitale degli elaborati prodotti tempi qui ovviamente sono molto dilatati da settembre a giugno ecco piano di lavoro con specificazione delle fasi quindi nuovamente fasi di applicazione attività metodologia esiti tempi evidenze per la valutazione sia per quanto riguarda la realizzazione del servizio di prestito che per quanto riguarda l'animazione alla lettura l'incontro con l'autore la produzione scritta e la pubblicazione nel sito degli elaborati prodotti oltre che naturalmente della rilevazione finale ecco utile il quadro riassuntivo delle competenze sviluppate le rubriche valutative come si diceva poco fa e il diagramma di Gantt ecco si propone poi un compito di realtà quindi lettura consapevole e gradimento attività da svolgersi qui si dice nelle regole rispetto delle regole covid quindi tenete presente che tutto questo è ovviamente da adattare in situazioni e contesti diversi le classi coinvolte sono una prima e una seconda si ascolta una storia si legge un libro si prova ad esprimere le preferenze in base a personaggi alle pagine più emozionanti al fatto più coinvolgente metodo di lavoro rispetta il tuo turno collabora in modo costruttivo discipline coinvolte lingua italiana tecnologia arte immagine tempi e modalità primo secondo quadrimestre compito di realtà per classi terza quarta e quinta dopo aver ascoltato la storia o un libro letto in classe esprimi un tuo indice di gradimento quindi ascolta la storia o leggi un libro prova a esprimere le tue preferenze in base a personaggi pagina più emozionante e fatto più coinvolgente in questo caso le discipline coinvolte ecco sono anche musica oltre che arte immagine tecnologia e lingua italiana questa è la griglia di valutazione di processo quindi imparare ad imparare competenze sociali e civiche comunicare con la madrelingua consapevolezza di espressione culturale artistica e musicale comunicazione nelle lingue straniere griglia valutazione del prodotto quindi legge testi di vario genere tipologia ricavando informazioni ed esprimento giudizi con una leggenda quindi di nuovo livello avanzato intermedio base o iniziale proseguendo con ulteriori risorse all'interno della cartella che cosa troviamo? allora torniamo alla le nostre slide ok apro una nuova scheda una nuova scheda apro una scheda in google e così facciamo anche una piccola lezione su come accedere ai materiali condivisi quindi sulla base dell'account con cui è stato condiviso il materiale voi accedete e se è qualcosa che è stato condiviso con voi lo ritroverete andando al 9 quadratini in alto a destra e cliccando su drive ripeto se la presentazione materiale è stato condiviso lo troverete in condivisi con me diversamente se l'avete prodotto voi lo trovate nel mio drive ad esempio questa cartella io l'ho in questa cartella attività 21-22 attività per l'ambito e qui vedete c'è la sottocartella verde curriculum trasversale di educazione civica quindi mi ritrovo ad esempio le schermate che non vi ho fatto vedere prima che sono schermate che io avevo preso appunto durante il laboratorio del CISP poi mi è stata mi è stata trasmessa la presentazione le risorse le abbiamo viste e la formazione con le UDA ecco forse vale la pena di soffermarsi ancora su un'unità di apprendimento sulla lettura anche perché viene promossa a livello ministeriale e su un aspetto che sarà approfondito anche venerdì 20 durante l'evento moltiplicatore del progetto Remix sull'aspetto della valutazione ex ante e ex post quindi all'inizio di ogni progetto trasversale o non importante fare una valutazione ex ante dell'analisi dei bisogni educativi quindi si indaga la motivazione l'aspettativa le rappresentazioni dei nostri alunni e come può avvenire si possono ad esempio selezionare delle frasi d'autore di libri letti negli anni precedenti quali frasi hanno attratto la curiosità pensi che leggere libri diversi possa essere un'attività utile in questo caso naturalmente trattandosi di promozione della lettura ti piacerebbe diventare un appassionato lettore ecco questo potrebbe sollecitare la motivazione le aspettative potrebbe aiutarti a comprendere meglio te stesso il tuo mondo interiore pensi che la lettura potrebbe migliorare i tuoi rapporti con gli altri pensi che la lettura potrebbe migliorare il tuo modo di scrivere e di comunicare ecco la fase di restituzione è opportuna anche dopo questa primissima questo primissimo esordio l'insegnante registra in tabelle strutturate i dati raccolti li socializza e li condivide con gli alunni quindi un monitoraggio costante dopo ogni fase la seconda è un'attivazione educativa per incrementare naturalmente la motivazione ma come sempre creando un gruppo quindi la seconda fase dialogo lavoro cooperativo e si basa su tre criteri il primo fare in modo che ciascuno metta qualcosa di proprio quindi non solo trasmissione di informazione il secondo fare in modo che il proprio di ognuno si sposi con il proprio dell'altro quindi creare interconnessione il terzo criterio è fare qualcosa insieme quindi qui ritrovate le attività possibili la progettazione delle varie fasi di lavoro dell'unità di apprendimento quindi stiamo parlando di quinte della classe primaria con tutte le varie materie coinvolte percorsi interdisciplinari ecco qua primo step secondo step leggere le carte quindi sempre anche elencate le metodologie ad esempio qui stiamo parlando di geografia quindi conversazione guidata didattica con la LIM cooperative learning proven solving ascoltativo didattica meno metacognitiva e peer to peer quindi lavoro e valutazione tra pari ecco qua per ogni materia vengono elencate le metodologie gli obiettivi le tecniche di valutazione ad esempio la competenza nella lettura mobilita una pluralità di dimensioni e processi tra loro interrelati quindi è possibile distinguere un livello di comprensione analitica che implica un processo di individuazione delle informazioni quindi un livello di comprensione generale del testo che richiama significato e lo scopo complessivo del messaggio un livello di comprensione tipologico che mette in gioco processi di riflessione e di interpretazione e si attiva come capacità di organizzare le informazioni di compiere differenze di cogliere relazioni tra informazioni esplicite e implicite naturalmente di un messaggio di collegare informazioni presenti nel testo con esperienze e conoscenze extra testuali una prima e una piena comprensione di un testo mette poi in gioco processi di valutazione e di giudizio sia sul piano del contenuto che sul piano della forma quindi come strumento di autovalutazione come si diceva poco fa condivisione dei criteri all'inizio del percorso delle dimensioni quindi individuazione delle informazioni comprensione generale del testo riflessione interpretazione valutazione e motivazione qui troviamo la griglia di progettazione del compito autentico sempre per la classe quinta scuola primaria che intravedo un po' come nodale rispetto al percorso trasversale di educazione civica tempo stimato per la realizzazione modalità di lavoro campo di esperienza e scheda di analisi del libro molto semplice utilizzare anche dei format presenti in google documenti ve ne mostro uno ad esempio se voi andate nella sezione google documenti sempre in drive trovate ad esempio il format per la scheda del libro quindi lo aprite e trovate già pronto scheda del libro il tuo nome introduzione quindi titolo autore illustratore narrativo saggio perché hai scelto questo libro suggerimento il titolo era interessante la copertina ti ha incuriosito l'hai scelto per un altro motivo raccontaci perché hai scelto il libro per aiutare i tuoi compagni di classe a conoscerti meglio l'ambientazione quindi descrivi il periodo in cui è ambientata la storia il luogo quanto tempo trascorri dall'inizio alla fine descrivi l'ambientazione in modo che i tuoi compagni di classe si sentano parte della storia trova un'immagine online che rappresenta l'ambientazione della storia e utilizzala per sostituire l'immagine ovviamente questa è sostituibile basta cliccare e si sostituisce i personaggi quindi chi è il protagonista amici o aiutanti il protagonista è un avversario non limitarti a menzionare i nomi dei personaggi descrivi le caratteristiche che li rendono speciali anche in questo caso proviamo a cambiare l'immagine quindi io tolgo questa immagine vediamo ok tolgo questa immagine vado a inserisci immagine quindi nel menu in alto quarto risultato quarto comando immagine posso caricarlo dal mio computer dal mio drive dal mio archivio di fotografie posso fare anche dalla fotocamera oppure cerco nel web quindi ad esempio io cerco un'immagine relativa all'ambiente vediamo mi esce ok e io posso fare drag and drop quindi trascinare come in questo caso oppure scendere e cliccare su inserisci sono tantissime le immagini sull'ambiente qui si parlava di personaggi quindi se non siete soddisfatti andate alla fraccina quindi parliamo di un personaggio vediamo un po' facciamo Harry Potter ecco tutte queste immagini sono già prive di copyright quindi tranquilli ecco possiamo quindi scegliere questo ad esempio in questo caso appunto drag and drop e troviamo i personaggi di Harry Potter quindi si trova un personaggio anche attraverso il web trama inizio che cosa è successo all'inizio cosa è successo a metà quindi solitamente il punto di maggiorazione della storia quindi la peripezia in termini aristotelici e la fine la catastrofe quindi come si sono concluse le vicende quindi si pensa agli eventi più importanti della storia a non raccontare nuovamente l'intera storia ma dare abbastanza dettagli in modo che la trama abbia senso anche per chi non ha letto il libro conclusione la tua opinione è importante raccomanderesti questo libro a un'altra persona ecco come vi dicevo tutto questo è già presente in google documenti a scheda libro potete trovare anche appunti sul corso relazione ecco vi raccomando sfruttate ecco la galleria di modelli è esplorabile andando semplicemente a questa freccina quindi scendendo vedete che trovate appunti sul corso programma della lezione ecco ad esempio appunti sul corso come diviso educazione civica matematica scienze ecco potrebbe essere utile questo format per la descrizione un diario di bordo del progetto trasversale di educazione civica che è appunto l'oggetto di questo laboratorio che qui si conclude ringrazio tutti coloro che fruiranno di questa registrazione alla prossima grazie grazie grazie